Sono stati vinti 10.000 euro nel pomeriggio in una tabaccheria di Prato La Peligna, non nuova, giocate, grattate, fortunate. Il tagliando vincente del gioco miliardario è stato venduto dal titolare a una donna che, dopo aver rimosso la patina sui numeri, è corsa incontro al proprietario per ringraziarlo. Quello venduto era infatti un biglietto con il lingotto d'oro che permette di moltiplicare per 10 il premio indicato, in questo caso 1.000 euro. La vincita a mondo, infatti a 10.000 euro. Nel 2021, nella stessa ricevitoria di Massimo Arcella, la dea bendata consegnò una coppia a mezzo milione di euro, stesso importo portato a casa lo scorso 14 dicembre da fortunato giocatore che grattò un miliardario nella tabaccheria del Tribunale di Sulmona. La fortuna sembra aver trovato terreno fertile nella vallata.